Anziani e disabili, carenza di strutture riabilitative per mille posti letto e inarrestabile perdita di posti di lavoro nella ASL. La CGL ha partecipato ad un'edizione dinanzi al Comitato Ristretto dei Sindaci dell'ASL della provincia dell'Aquila, composto dal Sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi, da quello di Avezzano De Angelis, da quello di Sulmona Namaria Casini, dal Vice Sindaco di Barisciano Giuseppe Calvisi e con la partecipazione della direzione della ASL, nel corso del quale si è discusso in merito alla complessa situazione in cui versano i servizi sanitari e socio assistenziali della provincia e alla grave carenza di personale dell'ASL numero uno di Avezzano sul Mono all'Aquila, con tutte le conseguenze che ne derivano. Il riferimento ai posti letto accreditati per l'assistenza residenziale semi-residenziale per gli anziani disabili nella provincia dell'Aquila ne risultano accreditati circa il 12% del totale regionale, infatti sono stati attivati 60 posti letto su un totale regionale di 525. Tutto ciò nonostante un fabbisogno carante nella ASL, complessivo di circa 1000 posti letto, riferito al setting anziani non autosufficienti, setting disabilità e riabilitazione, setting dipendenze patologiche. Condizioni che risultano a totale svantaggio delle aree interne con pesanti ricadute su livelli di assistenza e servizi prestati ai cittadini. Si aggiunga a tutto ciò una grave carenza di personale dell'ASL che si ripercuote sulla qualità del lavoro e sulla qualità dei servizi. Mancano ad oggi 695 unità lavorative, contrattualizzate con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a fronte di una dotazione organica di 4053 unità lavorative, carenza parzialmente attenuata con gli oltre 400 lavoratori assunti con tipologie di lavoro precario. Servirà un'azione urgente, un'azione unitaria finalizzata sia all'aumento del fabbisogno di personale dell'ASL, dice la CGL, sia l'attivazione dei posti letto carenti nel rispetto delle necessità assistenziali di tutto il territorio provinciale.